Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 7 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Di bene in meglio grazie a Venere, Sole e Giove. Con tre sostegni celesti del calibro di Venere, Sole e Giove, anzi quattro contando anche Urano, oggi siete in una botte d'argento, di più, d'oro, amore, figli, viaggi e svaghi, tutto fila per il verso giusto, a riparo da intoppi e guai. Solo il lavoro con Plutone in sesta casa vi procura qualche grattacapo, ma considerando che in azienda siete annoverati tra i migliori, vi sentite comunque rincorati, grazie alle vostre belle qualità ce la farete anche stavolta. I momenti più teneri li condividete col partner, un po' tra le lenzuola, evento sempre graditissimo, un po' chiacchierando amabilmente della vostra vita e del vostro amore, potreste unirvi a Fabio Concato quando canta Che fortuna averti incontrato. L'amore è compromesso da menzogne e bugie, da inganni, da relazioni segrete, da segreti celati e tenuti nascosti. Materialismo nella coppia, scarsa qualità dei sentimenti, staticità nella coppia che non offre particolari entusiasmi ed emozioni. Incontri sbagliati per i single che potrebbero trovarsi di fronte persone materialiste ed egoiste. I nati di giovedì dalla 15 alle 21 si troveranno ad affrontare situazioni imbarazzanti quanto incresciose, sia in amore, sia sul lavoro che negli affari. Non abbiate timore tuttavia di assumervi le vostre responsabilità ma scansare ed evidenziare quelle degli altri. Chi cerca trova, se di recente avete smarrito qualcosa provate a cercare meglio. Oggi è il giorno buono per ritrovare oggetti perduti. Ma sarete altrettanto sbadati e rischiate di perdere qualcosa ancora. Una notizia inaspettata potrebbe destabilizzarvi. Siate cauti. E soprattutto non fatevi prendere dall'ansia. Qualcuno vi sta pensando, non sforzatevi di capire chi poiché è difficilmente indovinerete. Sappiate che ha intenzione di rifarsi vivo presto. Potreste avere a che fare con persone importune, mettete in conto che dovrete sopportarle se volete mantenere con loro dei rapporti cordiali. Fastidi all'auto o alla moto. Per quanto vi possa sembrare complicato sta per aprirsi una nuova strada per risolvere un problema che vi affligge e non da poco. Date fiducia a una persona che oggi si offre di risolverlo. Giornata decisamente pesante e per certi aspetti mediocre, fate attenzione alle novità che oggi non mancheranno, ma non è detto che siano sempre positive. I nati di venerdì tra le 12 e le 15 oggi potrebbero avere dei problemi finanziari, occhi anche per gli altri. Incombono piccoli problemi economici e. Malte in arrivo. Siete stati lasciati da poco? La luna saggiamente vi consiglia di attendere tempi migliori per chiedere confronti e chiarimenti. Solo i nati di domenica hanno buone possibilità di riconciliarsi. Godete della fortunata combinazione di astri potenti del calibro di Plutone che adesso vi sorreggono. Il vostro cammino, se agite con coerenza, serietà e forza di decisione, è destinato ad arrivare al traguardo che desiderate. Solo Marte ora vi intralcia la strada con qualche contrarietà nei rapporti con il prossimo, sappiate tenere a freno la vostra tendenza a comportarvi con un pizzico di arroganza e moderate i toni, in special modo se siete nati della prima decade. Con la luna, alias l'intuito, e Mercurio, la logica, entrambi dell'opposizione, oggi vi sentite a corto di pensieri e di parole convincenti. Saranno gli altri casomai, il partner, il socio, l'interlocutore a convincere voi, portandovi dalla loro parte, anche se sotto sotto non ne siete pienamente convinti. Qualcosa da chiarire in coppia, dove la parità deve essere legge, altrimenti il gioco non vale. Amore ed Eros. Attrazione fatale, se poi andrà a buon fine come in una favola lo scoprirete solo vivendo. Comunque vada tutto è vissuto intensamente, dilatando i contorni delle cose e l'importanza delle situazioni, prima di prendere decisioni definitiva lasciate decantare, il tempo modula insegna. In amore oggi non vi ponete obiettivi troppo ambiziosi e, se la vostra vita veleggia per acque sentimentali tranquille, seguite la corrente. Se siete single, anelate adesso a un approdo sicuro dove poter ricoverare il vostro animo tenero e volatile. Ma resisterete a perturbazioni di stagione che stanno risvegliando quella che possiamo definire la vostra insostenibile leggerezza dell'essere. Lavoro e denaro Giornata densa di soddisfazione sotto il profilo professionale, grazie alla vostra dialettica e all'innata diplomazia se date le tensioni nello staff, tenendo a bada i rivali più agguerriti. Trattativa da riprendere dopo uno stacco significativo, difficile però ripartire da dove ci si era fermati, un po' di fatica andrà messa in conto. Mercurio dall'Ariete è in aspetto teso, specie se nati in ottobre. Il lavoro non è mai stato per voi così povero di stimoli creativi, ma alcuni mutamenti di rotta in senno al gruppo di lavoro, che prima vi avevano lasciato dubbiosi, saranno presto da voi interpretati come fulminanti svolte del destino, classici interventi della buona sorte per assegnarvi un nuovo spazio, fornirvi una provvidenziale occasione. Benessere Sensazione di sfasamento ma senza una ragione precisa, attenti al cellulare, se non usate l'auricolare le chiamate creano interferenze energetiche. In tutto ciò che fate occorre moderazione, la misura è la sorellina del benessere. Denaro Avete in mente di fare delle spese di una certa consistenza, ma per adesso gli astri vi dicono, se potete, di attendere. Tra qualche giorno la luna si porrà in aspetto completamente positivo e vi produrrà la fortuna di ottenere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per lei, un segreto svelato vostro malgrado crea attimi di imbarazzo, ma scusandovi rischiate nuove gaff. E allora meglio glissare facendolo ogni orri. Per lui, silenzi carichi di suggestioni e risposte, ovunque vedete indizi significativi da interpretare. Colore delle emozioni, verde pistacchio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, Attività, 7, Finanze, 7, Beneessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante Mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie a tutti.